Ciao a tutti ed eccoci, siamo all'edizione del 2023 dei campionati nazionali universitari. Oggi è un breve tornato, sto per andare a vedere i judo che convinceranno alle otto e mezzo, mentre un pochino più tardi gli attriti del sacondò. Molto elegante nella formazione del sacondò, qualche elegante nella formazione del judo finirò che tenero tante soddisfazioni. E qui il clima bellissimo, colico, medievale, si respira un'aria diversa. Siamo assominati la collina e l'ambiente è veramente sereno, tranquillo. Magari la discapito alle grandi in gara, però noi ce la metteremo tutta, come sempre. A domani. Grazie a tutti.